Fa quello che devi. Impiega il tempo che serve. Promettimi che tornerai a casa. Furiosa, fammi questa promessa. Il nostro corso gratuito è un'esplosione. Signora e signori mei, accendete i motori. Io sono furiosa. Il più oscuro tra gli angeli. La domanda è, saprai rendere questo momento epico? Grazie per la visione!